Io mi sento di criticare questa opera ai tanti italiani, ai tante famiglie italiane che hanno studiato i bambini di Cernoghi e anche ovviamente alle famiglie di Cernoghi e ai bambini di Sosso. Se siamo finiti, ci siamo finiti a dare questa convenzione. Grazie. La solidarietà, i baci, i bambini, l'aeroporto, la fumo e il cuore. Che ama questo mese e credo che la sua opera esprima questo suo amore per la vita. Grazie.